Asia Nuccetelli ama Fabio Basile? Arriva la smentita Fabio Basile e Asia Nuccetelli innamorati? Il post verità. . Secondo un noto settimanale di Gossip, Asia Nuccetelli e Fabio Basile sarebbero la nuova coppia di questa estate. Tra numerosi messaggi scritti in chat, e incontri romantici, i due avrebbero man mano costruito un solido rapporto. . Verità o bugia? A smentire la notizia ci pensa Asia Nuccetelli, attraverso le Instagram Stories. . . . . . Trovatemi questi chat e questo incontro! scrive la figlia di Antonella Mosetti, ex showgirl di Nonella Rai, sul suo profilo social. . Il noto settimanale, come sono solite fare altre riviste di gossip, si sarebbe inventato di sana pianta una relazione che non esiste, in quanto i protagonisti di questa storia nemmeno si conoscono. . . Ma cavoli, ma lo sapete che le persone hanno una vita privata? E se questa bugia mi avesse creato dei problemi nel mio personale? Si sfoga l'ex protagonista del grande fratello Vip, anche se al momento sembrerebbe essere single. . . Stesso discorso non vale per Fabio che, secondo alcune interviste rilasciate dal famoso campione olimpico, sarebbe felicemente fidanzato, con tanto di dediche speciali su suoi profili social. Asia Nuccetelli fidanzata con Fabio Basile? La smentita. . . Non è la prima volta che ad Asia Nuccetelli viene associato un flirt con un uomo impegnato. . Prima di Fabio Basile, i media hanno abbondantemente parlato della sua presunta infatuazione per Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne e fidanzato di Giulia De Lellis. . I due, loro si conoscono davvero a differenza della pseudo-relazione con il campione olimpico, si sono incrociati per la prima volta durante il grande fratello Vip, dove si ha ansia che Andrea ricoprivano il ruolo di concorrente all'interno del reality dedicato ai personaggi dello spettacolo. . 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